Ottima applicazione per realizzare immagini 360 gradi è la fotocamera cardboard, quindi la potete scaricare sul vostro smartphone o tablet e fare apri. Qui avete tutte le foto che avete già creato 360 gradi e potete cominciare una nuova registrazione 360 gradi cliccando sulla fotocamera posta a destra in basso e potete cominciare la registrazione cliccando sul tasto. Dovete seguire la freccia che dice di rallentare pianino pianino e con moto continuo. Grazie. 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 Ed adesso interrompo cliccando più e a tra poco sarà fatto il rendering della dell'immagine e comparirà e lo andremo a vedere ecco ha finito di fare il rendering ora posso cliccare sulla foto e posso come vedete una foto in 3d e la posso visualizzare con il mio la mia applicazione cardboard cioè inserendo nel cellulare nella vabbè adesso qui viene storta nella vedete che ecco qui viene tutta la registrazione narrata di quello che vi ho fatto vedere prima comunque potete vedere l'immagine 360 gradi finish poi cosa potete fare di a queste immagini la potete condividere non so su facebook su whatsapp eccetera eccetera mandarvela per gmail potete condividere in vario modo e copiare anche il link dell'immagine e la potete utilizzare poi nei vostri siti e e e e e e e Grazie.